Musica Caro Lolek, Giovanni Paolo II, un uomo, un papa, un santo, è lo spettacolo che verrà portato in scena l'8 giugno alle ore 21 nel sagrato del Duomo di Fano e il cui regista è Marco Florio che abbiamo qui con noi. Ci può parlare un pochettino di questo spettacolo? Beh, intanto è uno spettacolo importante, un evento abbastanza importante in occasione della beatificazione di Carol Voittila. Mi interessava mettere a fuoco la vicenda di questo personaggio che ha attraversato il Novecento vivendo una serie di avvenimenti importantissimi per la storia dell'umanità. È un uomo che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, che ha vissuto un'esperienza terribile con il nazismo, con l'occupazione sovietica e che ha traghettato, diciamo, la Chiesa nel 2000 con un bagaglio di esperienze notevolissime. Diciamo che la santità di quest'uomo ci interessava, mi interessava analizzarla proprio dal punto di vista umano. Possiamo definirlo un eroe del nostro tempo, però non l'eroe, quello cinematografico, il supereroe con grandi poteri, eccetera. Ma un uomo, un eroe che ha messo in evidenza gli aspetti meno evidenti dell'uomo, la malattia, la vecchiaia, ha avuto il coraggio di dimostrare a tutti quanti in un'epoca in cui c'è il culto della personalità, il culto della bellezza, il culto della forza, dell'energia, eccetera, ha dimostrato che eroe si è quando si vive con coraggio il proprio tempo, quando si vive con coraggio la malattia, quando si vive dando senso, dando significato e dando valore alla vecchiaia. Quindi un grande insegnamento che ci lascia a tutti quanti, un uomo che ha saputo dialogare con tutta l'umanità, che ha saputo parlare al cuore di tutti e soprattutto il messaggio grandissimo ha saputo parlare con i giovani. I giovani che vivono in un'epoca molto difficile e lui stranamente con una forza e una gioia di vita incredibile ha saputo trasferire questa gioia, questa voglia di vivere, questa ricchezza, ha saputo trasferirla ai giovani e gli ha lasciato un messaggio importantissimo dicendogli fate della vostra vita un capolavoro, questa è la cosa importante. Gli attori dello spettacolo sono professionisti oppure? Allora ci sono due cori impegnati in questo spettacolo, ci sono giovanissimi cantanti, musicisti, non sono assolutamente professionisti, però sono tutti molto bravi, ci sono attori che recitano insieme a me che non sono professionisti, però tutti con una grande voglia di mettersi in gioco, una grande voglia di esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti attraverso il veicolo di Carol. Carol Olek è proprio una testimonianza d'amore verso questa persona che ha dato a tutti quanti, a noi, tutto il suo amore. Questa è solo una delle iniziative realizzate dall'associazione che porta il nome del Papa Carlo. Questo spettacolo è stato, diciamo, patrocinato e programmato dall'associatore Carol Voittila che in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II ha organizzato una serie di incontri, di studio, uno con un sindacalista di Solidarnoche che era un grandissimo amico di Carol Voittila e un altro incontro con due teologi che parlano appunto del, uno della santità, del significato oggi, di cosa vuol dire oggi essere santi, e un altro invece che parlerà appunto del concilio vaticano e analizzando aspetti fondamentali cui contributo grande ha dato Carol Voittila. Quindi invitiamo tutti gli amici di Onda Libera a vedere lo spettacolo, ripetiamo Carol Olek, l'8 giugno. Nel Duomo di Fao, grazie. Ciao. 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 Ciao.